Glorioso San Giovanni Bosco, che, a gloria di Dio, invita ti adoperasti mirabilmente al servizio dei giovani disagiati. Intercedi, te ne preghiamo, per tutti i giovani del mondo sedotti dal modernismo apostata, a cominciare da quelli della nostra cerchia familiare e parentale. Assicurandoti la nostra profonda devozione, speriamo di poterti ringraziare un giorno nella Gerusalemme celeste. Così sia.